Mi servivano dei documenti per ottenere il rinnovo della patente. Il dottore Alaimo mi prendeva in giro e rinviava continuamente. Con queste parole Adriano Vetro, 47 anni di Favara, incensurato collaboratore scolastico e in passato anche in servizio presso un istituto di Caltanissetta, avrebbe confessato di essere l'autore dell'omicidio del cardiologo Gaetano Alaimo, 65 anni, specialista molto noto nell'agrigentino. Vetro è accusato di omicidio premeditato e porto abusivo di arma. In questo momento si trova nel carcere di Agrigento, dove è stato trasferito dopo l'interrogatorio del procuratore Salvatore Vella. L'indagato avrebbe raccontato che da tempo chiedeva al medico il rilascio di un documento indispensabile per il rinnovo della sua patente di guida, rendendosi disponibile anche a subire un intervento chirurgico pur di avere il certificato. Al diniego del medico l'uomo avrebbe estratto la pistola uccidendolo. Ma la versione di Vetro non convince gli investigatori. Secondo una prima ricostruzione, il presunto assassino, che era un paziente di vecchia data del cardiologo, sarebbe arrivato nel centro medico prima dell'apertura. Lì c'erano soltanto le segretarie, mentre i pazienti si trovavano ancora all'esterno. L'uomo si sarebbe avvicinato al medico, da lì sarebbe scoppiato una lite e lo sparo diretto al petto del professionista che è morto sul colpo. I carabinieri sono riusciti tempestivamente a identificare l'uomo grazie proprio ai racconti dei testimoni che lo conoscevano come paziente storico del medico. Intanto le indagini della procura di Agrigento e dei carabinieri continuano per fare definitiva chiarezza sulla vicenda.